Siamo a Cornua, mi dicono. Siamo a Casebecco in realtà, sotto il Montebecco, nella parte occidentale del territorio comunale di Soria, al confine con Bargagli, Lumarzo, Uscio, in parte Genova, Bogliasco e Pieve. Quindi nella zona dove il Golfo Paradiso e i vari comuni si toccano e che rappresenta un po' anche la nostra unità da questo punto di vista. Parlando proprio di unità, questa che è un'edizione 17 di un evento creato da un imprenditore di Recco, è un qualche cosa che in realtà rappresenta a pieno il territorio, perché parliamo di scuole, parliamo di territorio. Tutti noi immaginiamo il Golfo Paradiso con il mare, invece siamo in un bosco, in una realtà verde. Certo, il Golfo Paradiso è un meraviglioso lembo di mare con decine di chilometri quadrati di montagna alle spalle. Qui siamo quasi a 800 metri, quindi insomma è la varietà della Liguria che si esprime in queste manifestazioni ed è bellissimo che dall'iniziativa appunto di Biagio, portata avanti negli anni dalle scuole, da tutti gli istituti comprensivi del nostro territorio, si vada avanti per far conoscere ai ragazzi la bellezza di questo territorio e fargliela vivere, perché del nostro territorio ci si innamora se lo si percorre, se lo si vive, se se ne sentono gli odori, i sapori, se si percorrono i sentieri. Questo fa questa manifestazione, qui sta al suo merito concludere a tavola in modo conviviale, assaggiando la focaccia col formaggio, le trofie al pesto e quant'altro, è sicuramente il modo migliore per suggellare questa bellezza. Abbiamo detto solo Biagio, perché il cognome diventa quasi inevitabilmente da baracchetta. Biagio, 17 edizioni di questo appuntamento, nato come? Guarda, ora ti dico veramente come è nato, erano anni che c'era un po' di fermento sui formaggi, quelle cose lì, e io ho girato tutti i formaggi d'Italia, del centro-nord, e un giorno c'era una fiera a Genova, primavera, e c'era San Biagio scritto lì, ho guardato e c'erano dei forni, ho detto me lo fai, facciamo un affare, me li metti un po' meno, te ne compro due, che poi non so cosa ne farò, e da lì poi abbiamo preso un elicottero con un machiavello della centrale dell'Ate, Amedeo, che è un signore bravicio che saluto, e abbiamo pensato a Caravaggio, abbiamo cercato le quinte elementari, perché quell'anno lì era il primo anno e l'elementare era più facile contattare, abbiamo fatto Recco, Amedeo le maestre non se le sono sentite, e uscio, e abbiamo fatto la festa da Suncima, bellissima, con i cacciatori che hanno pulito, che continuano a pulire, di fatti lì non brucia mai.